Arriva a sentenza il procedimento per le consulenze d'oro sul crack di Banca Etruria, l'ultimo filone aperto dalla Procura di Arezzo. Ad essere contestate da parte della pubblica accusa sono le consulenze affidate nel 2014 dal CDA della Banca per valutare, analizzare e successivamente avviare il processo di fusione con un altro istituto di credito di elevato standing come richiesto dalle autorità bancarie che poi però non ci fu. Gli incarichi riguardarono grandi società come Mediobanca, noti studi legali di Roma, Milano e Torino per circa 4 milioni e mezzo di euro tra il giugno e l'ottobre del 2014. Secondo l'accusa, in gran parte consulenze inutili e ripetitive in un momento in cui il dissesto finanziario della banca era già noto. Di fronte al giudice del Tribunale di Arezzo, Ada Grignani, che chiuderà con questo procedimento prima della sua maternità, i 14 imputati, tra loro anche Pierluigi Boschi, padre dell'allora ministro Maria Elena, all'epoca dei fatti, Boschi era vicepresidente dell'istituto. Oltre a lui, 13 tra ex dirigenti e consiglieri del CDA che ratificarono quegli incarichi, Alessandro Benocci, Rosanna Bonollo, Claudio Bugno, Daniele Ciabati, Carlo Catanossi, l'ex vice direttore Emanuele Cuccaro, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatore, Luigi Nanni Pieri, Luciano Nataloni, Anna Maria Nocentini, Lapini, Claudio Salini e Ilaria Tosti. Alle 10 sono previste le repliche, poi la Camera di Consiglio e quindi la sentenza. Intanto è slittato a novembre l'appello per la sentenza di primo grado per l'accusa di bancarotta. Ad ottobre scorso vennero assolti dal Tribunale di Arezzo tutti gli imputati, tranne Alberto Rigotti. Il 10 novembre prenderà il via il procedimento presso la Corte d'Appello di Firenze.